Il vero web marketing, perché obiettivamente abbiamo analizzato tutte le sfaccettature dai social network al discorso legale, al discorso grafico, di impostazioni, di contenuto, comunque è stata fatta una panoramica anche con gli esterni di tutto quello che è il settore. Quindi come diceva benissimo Andrea, non c'è qualcosa in particolare che è sopra le righe, sono comunque tante piccole cose che messe insieme ti danno il senso della materia, del marketing.